E' stato su indicazione della nostra, diciamo come indicazione chiaramente politica, quindi mia personale, su formalizzazione da parte del Vice Sindaco Elena Coccia. Oggi l'Assemblea di Sapna ha nominato il Dottor Gargano, amministratore unico, quindi in perfetta continuità con il lavoro svolto sinora. L'affare del giudice si è reso di missionario anche perché si era caricato un impegno enorme, perché già fare il Presidente di Asia è molto difficile. Gli avevamo chiesto di insieme fare in questa fase anche Sapna. Lui l'ha fatto a titolo gratuito, nonostante noi avremmo potuto nominare un CDA, un amministratore unico, facendo ricadere costi sull'amministrazione, ma soprattutto l'ha fatto con una direttiva ben precisa, cioè quella di ottimizzare i costi, a lavorare con trasparenza, efficientare, lavorare meglio sugli stir, affrontare la questione CUB, dare stabilità ai lavoratori della Sapna, lavorare verso l'azienda unica dell'igiene urbana. Insomma il lavoro di Raffaele è stato difficile, sta producendo grandi risultati. Qualcuno si è un po' agitato per tutto questo, ma è chiaro che quello che abbiamo fatto a Napoli lo faremo anche nella città metropolitana. Trasparenza, efficienza, un'unica grande azienda è il trasporto pubblico perché crediamo che questa è la strada per tenere fuori affarismi, criminalità organizzata, vecchia politica e una serie di colletti bianchi che a nostro avviso non hanno sempre fatto il loro dovere.